musica eccoci qua al popolo di youtube con la mia super ultra poltrona nuova decca musica 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 un po' già gambe un po' giorno e per di più questo, questo, questo che vedete fa anche i massaggi, vibra musica musica guardate cosa può fare questa super poltrona va sempre più giù sempre sempre più giù musica 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 eccoci qua al popolo youtube spero vi è piaciuto il video sotto ci sono i link di iscrizione di tutti instagram facebook twitter quello che volete e con il francese e la sedia è tutto musica 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 musica